buongiorno a tutti ho in mano un foglio dove sono stampati un po di domande che ci arrivano sul sito di motociclisti che hanno dei dubbi e vogliono dei chiarimenti mi è sembrato opportuno cominciare a dare delle risposte mi piace darle via video perché a un certo punto vedete la mia faccia mentre vi dico le cose vedete se ve le dico convinto oppure no io sono convinto di quello che vi sto dicendo ci è arrivata una bellissima domanda da parte di un possessore di una kawasaki r6 n motore bicilindrico in linea 650 cc una moto diciamo un entry level comunque una bellissima moto un progetto che mi è piaciuto fin dalla dalla sua nascita io l'ho visto presentare nel 2005 le prime fotografie poi è stato appunto un modello che parte dal 2006 sostanzialmente come presenza sul mercato la domanda riguarda l'ingresso curva e la percorrenza che a volte a seconda delle gomme che monta questo ragazzo più o meno sportive o altro che però a volte è un po incerta io motore di questo genere li ho vissuti tanto a partire dall sv6 50 prima serie la prima serie carburatore del 99 e ho appunto corso anche un trofeo e a volte l'apertura gas era un po brusca allora cosa succede che tu entri in curva finisci la tua staccata prima di aprire il gas lasci passare troppo tempo un consiglio per fare la curva in maniera più regolare possibile è quella di fare prendersi un riferimento per una curva fare una vera staccata quando si mollano i freni riprendere il gas con un filo di gas e poi piano piano progressivamente andare verso l'uscita della curva perché se noi facciamo tutta la prima parte della curva col gas chiuso rischiamo quando poi apriamo di aprire in maniera troppo brusca e non riuscire a controllare quindi il nostro angolo di piega non è regolare andiamo a scatti e questo ci fa perdere non solo la velocità nella percorrenza ma anche la sicurezza nella percorrenza quindi quando finiamo la staccata riapriamo il gas molto dolcemente e andiamo via regolari poi quando ci sentiremo sempre più sicuri potremmo essere in grado di aprire il gas di più e quindi essere più veloci però questa progressione ci permette un ottimo controllo della moto e anche un'usura regolare delle palle grazie a tutti